Il nuovo sindaco di Montalbano ha il quarto impegno istituzionale, ma questo addirittura nel paese di origine, quanta emozione si prova? Sì, grazie intanto per la vostra disponibilità anche nel pubblicizzare l'evento che sicuramente abbiamo apprezzato. È un motivo doppiamente di orgoglio per me perché non solo come sindaco di Montalbano, ma io in questi luoghi ci vivo, sono di questa comunità, appartengo a questa comunità e quindi sicuramente la cosa mi rende doppiamente orgoglioso per non solo avere partecipato nella qualità di sindaco, ma nell'avere apprezzato questo piccolo capolavoro. Parte questa nuova azione amministrativa per Montalbano, quali sono i propositi? L'obiettivo è duplice, io l'ho detto e lo sto già mantenendo. Un primo obiettivo è quello nel brevissimo periodo, cercare in qualche maniera di garantire immediatamente la pulizia e il decoro del paese, una ordinaria amministrazione che deve essere regola e una modifica immediata anche della macchina amministrativa che deve garantire determinati parametri e determinati standard. Dopodiché andremo invece a concentrarci, subito dopo, in una serie di idee, di iniziative, di programmi che abbiamo vergato, che abbiamo stilato nel nostro programma elettorale, ma che cercheremo nel corso di questo orizzonte quinquennale di andare a concretizzare. Al di là delle idee politiche diverse, degli uomini che cambiano, sicuramente va dato atto che la vecchia amministrazione ha lavorato molto sulla promozione turistica e sul brand Montalbano, una risorsa che sicuramente deve essere portata a frutto e magari ampliata. L'obiettivo è proprio questo, lei ha centrato bene quello che era e che è lo scopo che noi vogliamo realizzare nel corso del prossimo quinquennio e l'ho detto in maniera molto chiara, continueremo certamente su questa strada, ma il turismo deve essere un turismo produttivo, cioè deve in qualche maniera creare ricchezza nella mia comunità a Montalbano, altrimenti se è fino a se stesso, credo che serva poco, ma anche a qualunque amministrazione. Credo che su questa strada, in questo settore sicuramente sia stato fatto molto, ma il prossimo step è proprio quello di consentire che il turismo possa essere una fonte di ricchezza per Montalbano ed è questo l'obiettivo al quale lavoreremo nei prossimi mesi. Turismo, ma anche agricoltura, c'è un'importante azienda di acque minerali, quali sono i progetti per cercare di trattenere i giovani qui a Montalbano? Guardi, ho impiegato un'intera campagna elettorale proprio su questo argomento, credo che anche l'agricoltura, che devo dire in questi anni è stata totalmente abbandonata, questo non lo dico io, ma è un dato di fatto, deve diventare fonte di ricchezza. Il binomio turismo-agricoltura non è un binomio che non si può in qualche maniera prendere in considerazione, si deve prendere in considerazione anche il settore agricolo e il comparto agricolo che, ricordo a me stesso, tantissimi anni fa era l'unica fonte di ricchezza per Montalbano. Oggi c'è anche il turismo, su quello investiremo, ma anche sull'agricoltura io intendo spendere gran parte delle risorse. Qual è il messaggio che si sente dare all'opposizione? È chiaro che chi vince è contento, chi perde naturalmente rimane un po' deluso. Ho visto che c'è anche un forte fair play tra voi, il cambio della fascia, ma anche il dialogo durante la campagna elettorale. Qual è il messaggio che si sente di dare ai suoi cittadini, ma anche a Filippo? Io ritengo che solo dalla condivisione di tutta una serie di idee in questi piccoli paesi si può andare lontano. Su quello mi spenderò, l'ho detto subito e non è una parola, una frase di stile, essere il sindaco di tutti perché lo dimostrerò con i fatti, tenendo conto anche della circostanza che con Filippo Taranto, ma anche siamo una piccola comunità, quindi ci conosciamo tutti, c'è un rapporto di lealtà, di rispetto che va al di là dell'aspetto politico. Questo io cercherò di coltivarlo nel corso dei cinque anni. La politica è questo, la politica è confronto, a volte anche scontro, però la politica è condivisione di un progetto comune, che è quello di far sì che il proprio paese in ogni caso possa migliorare. Auguri e buon lavoro. Grazie, grazie ancora per la disponibilità.